Ciao amici, oggi faremo una cosa buonissima, gli spinaci gratinati. Assaggiamo. Non lo vado mai mangiare, Luizio. Assaggiamo. Prima di tutto lo vedete, scongerò gli spinaci. Adesso mettete nella padella l'olio e la cipolla. E la fate rosolare. Quando la cipolla è dorata, ci mettiamo i pinoli. Li facciamo tostare un pochino e poi ci mettiamo gli spinaci. Il sale e mescoliamo. Se sono troppo acciuti, ci mettiamo un pochino d'acqua e li facciamo cuocere un pochino. Adesso mettete un po' di olio nella pirofila. E ci mettete dentro gli spinaci che abbiamo cotto prima. e li si inserite per benissimo. E li assaggiate per benissimo. Adesso ci mettete dentro la scamorza e il formaggio. E il pomaggio grana. Adesso mettete in porno a gratinare. Ed ecco i miei schiacci gratinati. Prima li faccio raffreddare un po' e poi li assaggi. No, non mangiatele adesso. Appena riuscite da forno perché adesso scottano. Scottano. Quindi, mi raccomando. Sono buonissimi amici. Facetelo anche voi. Se volete, potete anche mettere la bietola che fa anche più bene degli spinaci. Bambini e bambine, anche voi mangiatele perché vi fanno diventare verdi come urco. Forse come... Vedete che forza? Mamma, mi dai una chiavetta? Mi piace? Ciao amici, vi amo tanto tanto. Siete bellissimi. Davvero gustosi e buonissimi. Mega buoni, anzi. Mega. Mi sento già fortissimo. Na scusate! Ma... 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 Mi sento più...